Lei si sta candidando, credo, alle elezioni, ma e questo è... Non lo so, mi pare di aver capito. Vuol dire che l'onorevole probabilmente conosce più di me quello che è il mio futuro. Caro Ministro, caro Matteo, grazie per questa opportunità di essere qua stasera e soprattutto di essermi potuto candidare come candidato indipendente nell'ambito della Lega.